Prima si agita, provoca una perdita nella tubazione di gas metano dell'impianto dell'appartamento del civico 58 di via Brindisi a San Pietro Vernotico al quarto piano del palazzo civino che ospita il centro di accoglienza per migranti gestito dal progetto terra d'asilo del sistema di protezione per i chiedenti asilo e rifugiati, poi all'arrivo dei carabinieri intravede le loro divise e tenta di gettarsi dal balcone per suicidarsi. I militari riescono però a fermarlo prima di compiere il folle gesto. Momenti di paura e concitazione nella serata di ieri giovedì 6 agosto 2015 a San Pietro Vernotico quando il giovane o minore senegalese rifugiato politico intorno alle 20.30 ha cominciato a dare in escandescenza sul posto avvisati dai residenti della zona due carabinieri della stazione di Tuturano che hanno raggiunto l'appartamento del giovane in evidente stato di agitazione che dopo aver danneggiato la tubatura del gas alla vista dei carabinieri si è lanciato contro il balcone per buttarsi di sotto. I carabinieri capendo sin da subito le intenzioni del giovane lo hanno fermato sul posto anche i sanitari del 118 di San Pietro Vernotico, i vigili urbani e i vigili del fuoco. Dopo aver bloccato il ragazzo continuava a urlare di vincolarsi per fuggire ma i paramedici gli hanno somministrato un anestetico con qualche difficoltà perché nessuno riusciva a tenere saldo il giovane. Appena sedato il senegalese è stato poggiato su una barella e caricato in ambulanza. Intorno allo stabile si era accolto un gran numero di persone richiamate da quanto stava accadendo. Liberato l'appartamento che si era riempito di gas, metano e fortunatamente aveva tutte le finestre aperte per il caldo, i vigili del fuoco lo hanno messo in sicurezza e la situazione è finalmente tornata alla normalità.